Il reparto d'onore presentato l'oggi Onori al Presidente della Repubblica d'Albania 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 Signor Presidente, per il nome benvenuto a lei e a la delegazione che l'accompagna. È un onore avermi qui a Roma per la pubblica italiana. Lei per me è un piacere grande e piacere personale poter conversare con lei, quando abbiamo fatto vacanze e cosa continuiamo a fare adesso, anche ringraziando l'accoglienza in settembre scorso a Tirana. Il nostro rapporto è di straordinaria eccellenza, non potrebbe essere diversamente, perché siamo profondamente amici storicamente, culturalmente e tra i nostri popoli. Benvenuto Presidente.